Exo Rattics, stai cercando un crossover made in Italy super affidabile? Fiat 500X, 1.013 cilindrata, 95 cavalli allestimento business, scopriamolo insieme. Stiamo parlando di un autoveicolo aziendale che ha percorso poco più di 80.000 km e che è certificato e garantito perché come tutte le nostre autovetture deve aver superato il test di 150 punti di controllo dei nostri automotive expert. Inoltre è stato interamente ricondizionato sia nella meccanica che nella carrozzeria quindi è assolutamente pari al nuovo. Davvero cool in questo bellissimo colore, come dice il nome, grigio moda. Alimentazione diesel per un consumo reale misto di 5 litri ogni 100 km. Le linee sono bombate come è tipico dell'universo Fiat e non può mancare certo il doppio baffo cromato che troviamo sul frontale. I cerchi sono in lega multirassa da 16 pollici cromati e il battistrada in condizioni perfette. Nonostante sia un crossover, il bagagliaio non è per niente male. Molto ben sagomato, con luce alogena di cortesia sulla sinistra, parte da una capienza di 350 litri e arriva addirittura a triplicare abbattendo entrambe le sedute posteriori frazionabili 60-40. Davvero super agevole anche per i passeggeri posteriori accedere all'abitacolo grazie all'ampio angolo di apertura delle portiere. All'interno troviamo tantissima spaziosità, sportività, comodità e luminosità grazie all'ampia finestratura e al cielo chiaro. Ma vediamo insieme le sedute che sono in pelle e tessuto. Bellissima è la texture, ergonomiche, confortevoli e dotati di attacchi Isofix a entrambe le sedute esterne posteriori. Il sistema di accensione start and stop. Davvero elegante è la plancia, con la palpebra a riprendere il colore grigio moda metallizzato della carrozzeria e con tutta la tecnologia di cui abbiamo bisogno. La parte centrale del quadro strumenti è interamente in digitale. Dal volante a tre razze possiamo gestire numerosissime funzioni. Abbiamo a disposizione il comando vocale per la gestione delle telefonate e non manca il cruise control con limitatori di velocità. Mentre dal praticissimo display che si erge al centro della plancia possiamo gestire tutto il sistema di infotainment. A partire dalla radio DAB possiamo accedere ai multimedia, non manca la navigazione, abbiamo accesso al sistema Uconnect e possiamo connettere il nostro smartphone, accedere a tutte le impostazioni di setup della vettura e i sistemi di assistenza alla guida. Inferiormente troviamo il clima che è automatico e bizona, doppia presa USB presa da 12V, il cambio è manuale a 5 rapporti mentre il freno di stazionamento è elettrico, doppio portavivite e un ulteriore vano portaoggetti sotto il bracciolo centrale che è estendibile. Ancora più sagomate, ergonomiche e confortevoli sono le sedute anteriori con sostegno laterale e supporto lombare e per parcheggi in totale sicurezza non mancano i sensori di parcheggio perimetrali. Non ti resta che correre sul nostro sito raptics.com, riserva la tua auto con un semplice click per 7 giorni con soli 100€ e prenota una video call con uno dei nostri sales. Potrai riceverla direttamente a casa tua grazie al nostro servizio di consegna a domicilio con igienizzazione e garanzia europea garantito in tutta Italia entro 7 giorni lavorativi. Avrai tempo 14 giorni per il recesso e non dimenticare di seguirci su tutti i social. Alla prossima auto!